Salve a tutti, sono Gianfranco Marini Raffreddato e vi auguro il benvenuto sulla bottega didattica per il fai da te con le tecnologie dell'apprendimento e della conoscenza. Bene, in questa video lezione, video guida, vi presenterò Back the Web, una applicazione free e quindi si può usare gratuitamente, vorrebbe dire mettere in borsa il web, imbustare il web in qualche modo, dicevo, un'applicazione free che serve per la curation, la cura dei contenuti, ovvero per facilitarci la vita sul web. Questa è, come vedete, il link bugtheweb.com e il logo di Back the Web. Bene, dicevo che Back the Web è uno strumento per la curation, in modo che noi possiamo ottimizzare l'esperienza di navigazione e esplorazione del web. Serve sia per curare i contenuti, cioè per organizzare le risorse che reperiamo sul web in modo da poterne disporre agevolmente e da condividere con gli altri, ma anche per creare dei contenuti. funziona in che modo? Possiamo organizzare le risorse tematiche, su un certo argomento, problema, tema, creando su di esso delle collezioni, delle raccolte o dei veri e propri dossier. Assomiglia in qualche modo a quello che era Storify, che adesso non esiste più, perché permette su un certo tema, su un certo argomento di raccogliere risorse di vario tipo, che so, video, audio, immagini, articoli, post, pagine web, eccetera, in modo da approfondire o documentare quell'argomento. Quindi è utile per che cosa? Beh, è utile per bibliotecari, per docenti, per studenti, per tutti coloro che, insomma, affrontano il web o vedono nel web quello che è il loro ambiente di conoscenza, di apprendimento, di costruzione collaborativa della conoscenza. Può servire per lo storytelling, perché posso raccontare qualcosa, mettendo insieme, provandole dal web, mettendo insieme delle risorse, o per la narrazione, anche autobiografica, posso anche, in qualche modo, scrivere delle note, posso documentare degli argomenti, posso descrivere un processo, posso realizzare relazioni, spiegazioni, come ho scritto qui, appunto, reportage, ricerche, eccetera. Il tutto nell'ottica, dicevo, della cura dei contenuti, ma anche della creazione dei contenuti, è per affrontare il mostro del sovraccarico informativo, che impedisce o comunque ostacola grandemente un uso ottimale, consapevole e critico del web. Ricordiamo che quella che si definisce curation, la capacità appunto di reperire le informazioni, di vagliarle, di valutarle, di confrontarle e di ricavarne qualcosa, è una delle più importanti competenze digitali, qualsiasi tassonomia o quadro di riferimento europeo-italiano prendiamo, come indicazioni nazionali del 2012, troviamo addirittura la competenza digitale definita proprio nei termini di capacità di cercare, eccetera. Bag the web non vi farà esclamare wow, ecco, l'effetto wow non è proprio di bag the web, perché dal punto di vista grafico non è certamente il massimo, non è eccezionale, però è molto potente, è molto semplice da utilizzare, è molto efficace in quello che ci si propone di fare, cioè in quello che è il suo scopo. Prendiamo per esempio, vedete, qui sono su Bag the web, esplora, e quindi sono dei bag, quindi delle raccolte create con Bag the web. Prendiamo questa su Nancy Duarte, che è forse la più conosciuta e famosa autrice e guida e guru nell'ambito delle presentazioni, presentazioni multimediali. Ecco come si presenta un bag. Vedete, abbiamo una serie di post, potremmo dire, che possiamo annotare, queste sono note curate da chi ha realizzato questo bag, che sono in realtà dei link, se clicchiamo andiamo ad un link, questo è un libro, immagino di Nancy Duarte, e così via. Possiamo inserire dei divisori, quindi dividere in sezioni o paragrafi il bag e scorriamo e vediamo che tutto quello che abbiamo sono link, video, eccetera, eccetera, immagini, commentate, perché questo è preso appunto, questo non è preso dal sito, ma è un commento aggiunto dal curatore. Come vedete, si tratta di un strumento efficace per realizzare, come dicevo prima, abbiamo qui 15 item, cioè 15 argomenti in questo bag, relazioni, dossier, descrizioni, possiamo preparare i materiali per un'uscita di dati, per un viaggio di istruzione, per un'attività di laboratorio, eccetera, eccetera, eccetera. Registrarsi è abbastanza semplice, sign in, ecco questo è il mio account, mi sono registrato con la mia mail, e questo è il bag che io ho creato per prova. Proviamo a creare la nostra raccolta, andiamo su create, diamo un titolo, qui scrivo per esempio prima guerra mondiale, poi do una breve descrizione, adesso io scriverò semplicemente descrizione, quindi materiali, raccolti su, eccetera, eccetera, per adesso lasciamolo unlisted, anche qui abbiamo tre opzioni, privato, possiamo vederlo solo noi, non in lista, non in elenco, può vederlo soltanto chi ha il link pubblico, può comparire anche nei motori di ricerca o in altri luoghi. Lasciamolo adesso privato e andiamo a creare il nostro bag. Bene, prima di tutto posso editare il titolo, come vedete posso modificare descrizione, titolo e così via. Posso anche cambiare l'immagine, caricando dal mio computer un'immagine appunto da qui, oppure con l'indirizzo di un'immagine che ho trovata online, come farò adesso. A questo punto posso effettuare quattro operazioni, aggiungere dei link, aggiungere un elemento separatore, un blurb, che sarebbe blarb, non so come si pronuncia, sarebbe delle note scritte da me, per esempio indicazioni per gli studenti potrebbero essere, o ulteriori fonti, e poi aggiungere un altro bank. Vediamo com'è semplice aggiungere un link. Clicco su aggiungi un link, do un titolo, adesso io metterò titolo 1 per semplicità, qui incollo il link e qui descrizione e magari indicazioni per gli studenti, guardate questo video, prendete appunti, eccetera. E aggiungiamo. Ecco fatto. Possiamo aggiungere un altro link. Vedete il nostro post è piuttosto bruttino, supponiamo che voglio abbellirlo inserendo un'immagine, quindi clicco sulla rotellina, image, e qui posso come sempre prendere un'immagine dal mio computer e caricarla, oppure usare un indirizzo di un'immagine che ho trovato sul web. E questo è il risultato. Vedete che adesso ho inserito altri elementi, per esempio un file audio, eccolo qua, realizzato da mio alunno sulla prima guerra mondiale, una presentazione che è incorporata in questo caso, un video che possiamo guardare direttamente dal nostro bank, un altro video, e così via. Ho inserito anche da qualche parte, eccola qua, una mappa concettuale. E in questo modo posso raccogliere le risorse che il mio modo di vedere, posso dare l'incarico agli studenti di realizzare un lavoro del genere, che può essere ancora più utile per loro. Quali altre operazioni posso compiere? Supponendo di avere 20-30 risorse, potrebbe diventare piuttosto complesso navigare nel mio bank, allora posso inserire per comodità mia e degli utenti che utilizzano le mie risorse, aggiungere un divider. Qui darò un titolo, vedremo titolo di una sezione, qui aggiungerò una descrizione della sezione, e il gioco è fatto. Ecco qui vedete titolo, sezione, posso naturalmente rieditare o cancellare. Ho realizzato due elementi di divisione, naturalmente vanno posizionati, posso spostare infatti ciascun elemento del mio bag in su o in giù, quindi muoviamo in giù finché non sarà nella posizione desiderata. Adesso lo muovo un altro po' giù, ecco qui. In modo da ottenere, vedete, una sezione, due sezioni, tre sezioni, tutte le sezioni che vogliono. Naturalmente posso spostare in su o in giù qualsiasi elemento, per esempio questo video lo possiamo collocare su. In questo modo è più facile consultare il bag, la raccolta. Possiamo aggiungere un blurb, vedete, è semplicemente una nota, scriverò una nota, per esempio delle consegne, dei suggerimenti, dei consigli, delle indicazioni, per esempio dei libri sulla prima guerra mondiale, e così via, e aggiungo. E poi posso anche aggiungere un altro bag. Devo qui inserire l'urlo del bag, vediamo di procurarcene una, e vediamo che succede. ecco, vedete, qui ho trovato, che non c'entra niente con la prima guerra mondiale, ma giusto per vedere come funzionava, un bag, l'ho inserito qui. Esplorando, qua posso esplorare, vedete, altri bag, che possono essere, vedete, li posso cercare da qui, first world, e posso creare una rete di altre raccolte collegate alla mia, che si possono esplorare per approfondire l'argomento. Bene, a questo punto andiamo a vedere il risultato, qui non c'è la possibilità di vedere un'anteprima, quindi devo tornare nei miei bags, il salvataggio automatico, ecco qui, prima guerra mondiale, l'ho scritto con una R, mi rendo conto solo ora, non fa niente. Vedete che qui mi compare, nella modalità di visualizzazione, non di editing, questo strumento, cliccando qui, io posso andare direttamente alla sezione, e questo è molto utile. Possiamo inoltre ottenere non solo il link, usando questo pulsante embed this bag, il link sarebbe questo, il link diretto, ma possiamo anche ottenere, vedete, vari codici di embedding per incorporare la nostra raccolta in un sito, in un blog e così via. Qui ci mostra anche come comparirà, quindi copio questo codice e lo incollo dove mi interessa, vedete, oppure comparirà in questo modo, oppure in questo modo, abbiamo insomma tante possibilità. Posso anche inserire un bookmarklet, cioè un pulsante come questi, che mi consente di salvare automaticamente durante la navigazione la pagina in un mio bag. Andiamo per esempio, andiamo subito a vedere, torniamo alla home page, qui bisogna saperlo trovare, con qui tools, qui scritto in piccolo, vedete, prendo questo bagit, il pulsante, lo trascino e lo rilascio, per esempio qui. Adesso non si vede perché ho un po' troppi pulsanti, lo vedete, è qui, si tratta di spostarlo, magari qui, ecco qua. Adesso supponiamo che io mi trovi in questa pagina, mi interessa, lo voglio aggiungere alla mia raccolta, baserà che clicchi qui, vedete, mi suggerisce il titolo, posso cambiarlo, per il Corriere della Sera l'annuncio della dichiarazione di guerra, descrizione, e poi devo scegliere in quale di questi bag deve essere collocata questa immagine, oppure creare un nuovo bag, io lo inserisco in quello della prima guerra mondiale, vediamo se va tutto bene, torniamo ai bag creati da me e vediamo se l'ho inserito correttamente. Prima guerra mondiale, eccolo qui, come vedete funziona. Secondo me questa applicazione è estremamente utile per conseguire proprio quell'obiettivo che è la competenza digitale, come definita nelle indicazioni nazionali, la capacità di cercare e organizzare le risorse per produrre qualcosa, per esempio per apprendere o per creare dei contenuti partendo da quelle risorse, quindi cura dei contenuti, creazione dei contenuti, è molto utile per quanto riguarda il pensiero critico, è molto utile per quanto riguarda anche lo sviluppo di queste capacità, ovviamente, per quanto riguarda una maggiore consapevolezza, si pensi all'information overload, il sovraccarico informativo, ma anche alle fake news, alla disinformazione, alla misinformazione, insomma, a tutti i grossi problemi che possono essere affrontati passo per passo con strumenti così poco appariscenti, ma molto importanti, tra cui Back the Web è uno dei più interessanti. Vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.